Eliminare i dossi affinché le navi di granistazza possano entrare nel porto di Barletta, un'operazione immediata in attesa di un intervento strutturale più importante di dragaggio. Presso la Lega Navale di Barletta è stata organizzata una conferenza stampa, a cui hanno preso parte l'assessore regionale all'ambiente Filippo Caracciolo, il direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno, il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi e il comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Sergio Castellano. Al centro dell'incontro l'annuncio dell'inizio dei lavori di livellamento dei fondali, che consentirà una ripresa dei traffici commerciali. Abbiamo raccolto le attenzioni, ma soprattutto il disagio da parte degli operatori portuali che rivendicavano un'attenzione da parte delle istituzioni. circa questa situazione che si era creata rispetto alla formazione di dossi che impedivano l'ingresso di navi di grossa stazza. Su indicazioni di questo tavolo tecnico è venuta fuori la soluzione che va a rimodellare i fondali marini, evitando che questi dossi impediscono l'ingresso delle navi di grossa stazza. Il tutto propedeutico a quei lavori strutturali che verranno eseguiti con il dragaggio del porto. Voglio essere fiducioso, questi lavori che riguardano il livellamento dei fondali, l'autorità di sistema bandirà una gara, penso che 15-20 giorni di tempo. Avviato un dialogo in confronto urgente, dimostrazione di una sinergia esistente tra i diversi enti in campo. Il dialogo fra le amministrazioni ha funzionato benissimo. L'autorità di sistema portuale con i suoi tecnici, l'ingegner di Leverano, l'ingegner Attolico, l'ARPA dall'altra parte, con il suo direttore Ungano, l'assessorato ovviamente con l'assessore Caracciolo, hanno dialogato e hanno strutturato un protocollo. Questo protocollo detta delle regole per agevolare l'attività di dragaggio, dividendole in due grandi categorie. Gli escavi, quelli veri e propri, portano all'approfondimento del fondale, che rimangono disciplinati alla normativa, per cui per Barletta stiamo andando molto velocemente e penso che entro l'estate avremo realizzato un approfondimento notevole del fondale, che ci era richiesto da molti anni, e dall'altra parte invece lo spostamento del sedimento. La conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori e dell'operazione di rivelamento fondali è stata anche l'occasione per trarre un bilancio sugli interventi messi in campo nell'annata dalla Capitaneria di Porto di Barletta. Sono interventi legati sia alla tutela dei consumatori per quanto riguarda la filiera della pesca e poi tutti gli interventi legati al ripristino della funzionalità di tutti gli arredi portuali, banchine, parabordi e quant'altro serve alle necessità operative del porto.